No, il vasino no! Oggi Simone e Gaspare giocano con le biglie. Tocca a me tirare! Dice Simone. Sì, tocca a te! Risponde Gaspare con una strana voce. Bel telo, ora tocca a me! Dice Gaspare sdraiandosi accanto a Simone. Bah, che puzza! Grida Simone tappandosi il naso. Hai fatto pupure il pannolino! Strilla Simone. No, no pupupannolino no! Dice Gaspare. Mamma entra nella stanza. Ma che cattivo odore che c'è qui dentro! Papà entra nella stanza. Oh, che puzza! Gaspare dice. Non sono io, è Simone. Gaspare, perché non cominci a usare il vasino? Ormai sei grande per il pannolino! Dice la mamma. Non è difficile, dice il papà. La prossima volta che hai voglia di fare pupù, vai a prendere il tuo vasino. No, il vasino no! Urla Gaspare. Ma dove vai? Chiede Gaspare. Da Ferdinando, a fare una pista per le piglie. Vengo anch'io. Un papà vola che fa ancora pupù nel pannolino non può assolutamente venire a giocare con noi. Risponde Simone. Gaspare comincia a girare intorno al suo vasino. Posso fare tante cose col vasino. Una pentola per cucinare. Un cavallo. Un cappello. Vieni qui Milù. Devi andare sul tuo vasino, gattone. Quando Simone torna a casa, è molto eccitato. Sai Gaspare, ho vinto dieci piglie barbonizzate, sei piglie occhio di gatto e quattro piglie pipita. E poi sono andato in piscina conferinato, è stato troppo bello. E tu Gaspare, cosa hai fatto? Ho giocato con il vasino. No, ma stai bene? La notte stessa, Gaspare fa dei sogni bellissimi. E la mattina successiva, dopo una bella dormita, improvvisamente... Plesto, plesto, il mio vasino! Gaspare si leva i pantaloni del pigiama. Poi si leva il pannolino. Gaspare passa molto tempo sul suo vasino. Guarda in giù, guarda in su, sta comodo. Prende un libro. E quando ha finito... Corre a farlo vedere a mamma e papà. Bravo Gaspare! Esclama la mamma. Bravo Gaspare! Esclama il papà. Bleh! Esclama Simone. Buongiorno! ... Buongiorno! Si.